dicevo l'altro giorno che la scuola letteraria di ieri si serviva per i suoi romanzi di avventure di verità eccezionali nella vita invece la scuola attuale poiché non si preoccupa che del vero simile stabilisce una specie di media tra gli avvenimenti comuni ed ecco che mi raccontano una storia accaduta veramente così sembra e che invece pare inventata da un romanziare di vena popolare o da un drammaturgo delirante la storia in ogni modo suscita emozione è ben congeniata ed è molto interessante nella sua stranezza in una proprietà di campagna, mezzo fattoria e mezzo castello viveva una famiglia che aveva una ragazza corteggiata da due giovani fratelli questi due giovani appartenevano a un'antica e onorata famiglia e vivevano insieme in una proprietà vicina il più grande fu il preferito il più piccolo, chiamava di un amore tumultuoso la ragazza divenne cupo e pensieroso era errabondo se ne andava per giorni interi oppure si rinchiudeva in camera a leggere o a meditare più si avvicinava il momento del matrimonio più diventava ombroso una settimana o pressapoco prima dalla data fissata il fidanzato che tornava di sera dalla sua visita quotidiana alla ragazza ricevette una fucilata a bruciapelo nel fitto del bosco i contadini che lo trovarono a levar del sole ne portarono il corpo a casa il fratello affondò in una cupa disperazione che durò un paio d'anni si credette persino che volesse farsi prete o che volesse uccidersi al termine di questi due anni di disperazione sposò la fidanzata di suo fratello tuttavia l'assassino non era stato trovato non c'era nessuna trazza sicura e il solo indizio era un piccolo pezzo di carta bruciacchiato e nero di polvere che era servito da stoppaccio al fucile dell'assassino su quel pezzetto di carta erano stampati dei versi il finale di una canzone senza dubbio ma non si pote scoprire il libro dal quale questo foglio era stato strappato si sospettò che a commettere il delitto fosse stato un famigerato bracconiere fu cercato, messo in prigione, interrogato, tormentato si cercò di fargli confessare il delitto ma egli non confessò e fu rilasciato per mancanza di prove questi i fatti pare di leggere un orribile romanzo di avventura c'è tutto amore dei due fratelli la gelosia di uno dei due la morte di quello che era stato preferito il delitto nel fitto di un bosco la giustizia messa fuori strada il sospettato prosciolto e il filo leggero rimasto nelle mani dei giudici quel piccolo pezzo di carta nero di polvere ed ecco sono passati vent'anni il fratello minore sposato è felice, ricco e tenuto in grande considerazione ha tre figlie una di esse sta per prendere marito sposa il figlio di un vecchio magistrato uno di coloro che facevano parte della corte ai tempi dell'assassinio del fratello maggiore ed eccoci anche al matrimonio un gran matrimonio di campagna un vero e proprio sposalizio i due padri si stringono le mani i giovani sono felici si pranza nella lunga sala del castello si beve, ci si diverte si ride e al dessert qualcuno propone di cantare qualche canzone come si faceva nel buon tempo antico l'idea piace e ognuno canta la sua quando viene il suo turno il padre della sposa cerca nella memoria vecchi ritornelli cantati in altri tempi e a poco a poco li ritrova fanno sorridere si applaude e gli continua in tono all'ultimo poi quando ha finito il magistrato che gli sta accanto gli chiede dove diavolo avete trovato questa canzone? io conosco gli ultimi versi mi sembrano persino connessi a qualche grave circostanza della mia vita ma non saprei dire niente di preciso sapete sto perdendo un poco la memoria il giorno dopo gli sposi novelli partono per il viaggio di nozze però l'ossessione dei ricordi non chiari l'assillo continuo della ricerca di una cosa che scappa sempre di nuovo tormentava il padre del giovane canticchiava senza posa il ritornello che aveva sentito dal suo amico e non riusciva a trovare dove mai avesse udito quei versi che tuttavia aveva impressi nella memoria come se avesse avuto un grave interesse a non dimenticare passarono altri due anni un giorno sfogliando vecchie carte ritrova copiate da lui medesimo quelle rime che aveva tanto cercato erano i versi rimasti leggibili sullo stoppaccio del fucile che era servito tanto tempo prima per quel delitto allora egli ricomincia l'indagine da solo interroga con astuzia fruga nei mobili del suo amico e lo fa così bene che alla fine ritrova il libro dal quale era stata strappata la pagina ma ora il dramma si svolge nel cuore del padre suo figlio è il genero di colui che egli sospetta in maniera così forte ma se colui che egli sospetta è colpevole il sospetto ha ucciso suo fratello per rubargli la fidanzata si può immaginare crimine più mostruoso il magistrato la spunta sul padre il processo si riapre il vero assassino è in realtà il fratello che viene condannato questi sono i fatti così come me li hanno raccontati mi dicono che sono proprio veri ma ditemi voi se si potrebbe metterli su un libro senza aver l'aria di imitare servilmente Montpain e Boasgobey dunque nella letteratura come nella vita il principio secondo cui non tutte le verità possono essere dette mi pare perfettamente applicabile mi sono richiamato a questo esempio che mi sembra approbante un romanzo messo insieme con un simile intreccio lascerebbe increduli i lettori e disgustati i veri artisti che mi sembrava